Incontro in prefettura questa mattina per la vicenda dei dipendenti Memar, l'azienda che svolgeva compiti importanti per ormai ex Banca Etruria, finita nel tritacarne del crack della banca. La Memar è infatti una società del gruppo Mediatica che aveva come cliente privilegiato Banca Etruria, come conferma anche la vicinanza delle sedi. Ubi non ha poi inteso proseguire il rapporto e l'azienda ha proposto ai dipendenti trasferimenti in altre regioni per molti non praticabili. Una vicenda, affermano i sindacati, che non può essere dimenticata dalla città e dalla politica. In gioco ci sono 35 posti di lavoro. L'incontro presso il Palazzo del Governo di Arezzo è servito per sollecitare un rinnovato impegno dell'attuale prefetto Anna Palombi rispetto all'attenzione già della precedente prefetta Clara Vaccaro. Anna Palombi si è impegnata a fissare un incontro con l'azienda per capire quali margini possono esserci. Vogliamo soprattutto chiarezza, affermano i lavoratori. Grazie a tutti.